RICERCATO DAL LUGLIO SCORSO Stanza in via Cupa dell'Arco a non più di 50 metri dalla sua abitazione. Era solo in casa e ha alzato le mani quando sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Scampia. Sono ancora in corso accertamenti per risalire al proprietario dell'appartamento e per appurare se chi abitava nello stesso edificio fosse a conoscenza della presenza del latitante.